Un anno le grandi piogge non vennero. È un'esperienza tremenda, spaventosa. Il coltivatore che l'ha vissuta non la dimentica. Dopo anni, lontano dall'Africa, nel clima umido dei paesi del nord, al rumore di uno scroscio improvviso di pioggia la notte, a un soprassalto improvviso, l'impulso di gridare finalmente, finalmente. Di solito le grandi piogge cominciavano l'ultima settimana di marzo e continuavano per tutta la prima metà di giugno. Fino ad allora il mondo diventava ogni giorno più caldo ed arso che in Europa quando sta per scoppiare un temporale. Dall'altra parte del fiume, in quel periodo, i miei vicini, i Masai, davano fuoco alle pianure aride, come scorze secche, per poter avere erba nuova e fresca nei pascoli alle prime piogge. L'aria danzava alla potente conflagrazione. Il fumo avanzava sull'erba, in lunghi strati grigi che prendevano i colori dell'arcobaleno. Sui campi giungevano il caldo e l'odore di bruciato come da una fornace. Nubi gigantesche si addensavano, per poi dissolversi. Un acquazzone lontano tracciava all'orizzonte una striscia obliqua di azzurro. Il mondo non pensava che ad una sola cosa. Poi un pomeriggio, proprio prima del tramonto, pareva che il paesaggio ci si stringesse intorno. Le colline si avvicinavano, vigorose e piene di significato, col loro verde e il loro azzurro limpido e penetrante. Due ore dopo, uscendo, si scopriva che le stelle erano scomparse e l'aria della notte, morbida e fonda, era gravida di benessere. Il rombo precipitoso che cresceva rapidamente lassù, sopra le nostre teste, era il vento fra gli alti alberi della foresta, e non la pioggia. Quello che correva strisciando lungo la terra era il vento fra gli arbusti e l'erba folta, e non la pioggia. Quello che frusciava e tambureggiava contro la terra era il vento nei campi di mais. Allora somigliava talmente alla pioggia che ogni volta ci si lasciava ingannare, quasi con gioia, come quando inizia finalmente la rappresentazione di un dramma che da molto tempo volevamo veder recitato, e non la pioggia. Ma quando la terra rispondeva con un ruggito fertile e profondo, come una cassa armonica, e il mondo cantava intorno a noi in tutte le sue dimensioni, in alto e in basso, quella era la pioggia. Era come tornare al mare dopo tanto tempo, come l'abbraccio di un amante. Un anno le grandi piogge non vennero. Fu allora come se l'universo ci avesse voltato le spalle. Faceva fresco, a volte anche freddo, eppure non c'era traccia di umidità nell'atmosfera. Tutto diventava sempre più secco e duro. Pareva che ogni forza e grazia si fosse ritirata dal mondo. Non era bel tempo o cattivo tempo, ma una negazione del tempo, un rinvio del tempo sine die. Un vento squallido, quasi una corrente di aria, vagava sopra di noi. I colori svanivano da tutte le cose. Gli odori abbandonavano i campi e le foreste. Si aveva la sensazione, come opprimente, di aver perso la protezione delle grandi forze della natura. A sud le pianure erano deserte e nere, con strisce di cenere grigie e bianche. Giorno per giorno, mentre aspettavamo inutilmente la pioggia, progetti e speranze della fattoria si annebbiavano e sparivano. Tutta la fatica degli ultimi mesi, la ratura, la potatura, la semina, divenne una fatica da sciocchi. Il lavoro cominciò ad andare sempre più lento, finché si arrestò del tutto. Nella pianura e sulle colline i pozzi si disseccarono. Ana, tre e docche selvatiche, di specie mai viste fino ad allora, venivano ad abbeverarsi al mio stagno. La mattina presto, e poco prima del tramonto, arrivavano anche le zebre, fino a due e trecento in lunghe file, i piccoli accanto alle madri. Se andando a cavallo finivo in mezzo al loro branco, non si spaventavano, ma dovevamo cercare di tenerle lontane, perché anche da noi l'acqua cominciava a scarseggiare. Malgrado tutto lo stagno era ancora bello. I giunchi che crescevano nel fango creavano un'oasi verde nel paesaggio brunastro. Con la siccità gli indigeni divennero silenziosi. Avrei voluto sapere cosa ne pensavano, cosa, secondo loro, dovevamo aspettarci, ma non riuscivo a farli parlare. Eppure conoscevano certo meglio di me il tempo e i suoi segni. Era in gioco la loro stessa esistenza. Per loro non sarebbe stata una cosa inaudita, come non lo era stata per i loro padri, perdere il 90% delle greggi nei grandi anni di siccità. Nelle sciamba assariarse spuntavano ciuffi radi di patate dolci e di mais, tutti curvi e vizi. Accettai la loro lezione. Smisi di parlare e di lamentarmi dei momenti difficili, come una persona colpita dalla sventura. Ma restavo pur sempre un'europea e non avevo vissuto lì abbastanza a lungo per possedere l'assoluta passività degli indigeni, acquistata da certi europei che si trovavano in Africa da decenni. Ero giovane. Avevo bisogno di concentrare le mie energie su qualcosa, per istinto di conservazione, se non volevo essere spazzata via insieme alla polvere delle strade e al fumo della pianura. Cominciai la sera a scrivere racconti, fiabe e novelle, per non pensare più ai miei guai, ma spaziare con la mente in altri paesi e in altri tempi. Ne avevo raccontata qualcuna a un amico che veniva a trovarmi alla fattoria. Quando mi alzavo e uscivo, fuori soffiava un vento crudele. Nel cielo limpido milioni di stelle splendevano severe. Tutto era arso. Da principio scrivevo di sera, ma poi cominciai a scrivere anche la mattina, invece di andare nei campi come avrei dovuto. Era troppo difficile, là fuori, decidere se bisognava arare e seminare di nuovo il mais, o se, per non far morire le piante di caffè, era bene ripulirle di tutte le bacche vizze. Rimandavo le decisioni di giorno in giorno. Scrivevo in sala da pranzo col tavolo tutto coperto di carte, perché spesso dovevo interrompermi per compilare conti e preventivi, o per rispondere ai bigliettini desolati del mio fattore. I servi mi domandavano cosa stessi facendo. Sapendo che cercavo di scrivere un libro, lo credettero un ultimo tentativo per salvare la fattoria in quei momenti duri, e ci si appassionarono. Più tardi mi chiesero come stesse procedendo il libro. Venivano nella stanza e vi restavano a lungo per osservare i miei progressi. Il loro viso colore del legno, la sera, si confondeva con le pareti. parevano nient'altro che delle vesti, tutte bianche, appoggiate lì, al muro, per tenermi compagnia. La mia stanza da pranzo, posta ad occidente, aveva lunghe finestre che guardavano verso la terrazza, il prato e la foresta. Il terreno scendeva declinando fino al fiume, che segnava il confine fra la fattoria e i masai. Il fiume non si vedeva, ma si poteva seguire il suo corso serpeggiante, dal disegno delle grandi acace verde cupo che lo costeggiavano. Dall'altro lato, il terreno boscoso era di nuovo in salita. Oltre i boschi cominciavano le pianure verdi che arrivavano ai piedi del Gong. Se la mia fede fosse abbastanza forte da muovere le montagne, questa è la montagna che farei venire da me. Il vento veniva da Levante e la mia stanza da pranzo era riparata. Tenevo tutto il giorno le porte aperte. Ragion per la quale la parte occidentale della casa era particolarmente simpatica agli indigeni. Ci passavano sempre davanti per restare in contatto con la vita che vi si svolgeva. Per il medesimo motivo, i pastorelli portavano là intorno le loro capre, lasciandole pascolare sul prato. Quei bambini, sempre in giro per la fattoria in cerca di un pascolo per le greggi, erano in qualche modo il legame fra la vita della mia casa civilizzata e la vita selvatica di fuori. I miei servi si fidavano poco e preferivano non vederli per casa, ma l'amore e l'entusiasmo dei pastorelli per la civiltà erano troppo forti. Per essi non rappresentava un pericolo, perché potevano staccarsene quando volevano. Il simbolo principale, ai loro occhi, era un vecchio orologio a cucù tedesco, appeso al muro in stanza da pranzo. Un orologio diventa un oggetto di puro lusso sugli altipiani dell'Africa. Bastava la posizione del sole per sapere l'ora in tutte le stagioni. D'altronde, poiché non c'era questione di treni e si poteva organizzare la propria vita come si voleva, finiva per avere poca importanza. Quell'orologio, però, era proprio bello. Ogni ora, il cucù spalancava la porticina circondata da un'aureola di rose rosse, lanciandosi avanti per dar l'annuncio con la sua voce chiara e insolente. La sua apparizione era ogni volta un piacere nuovo per i bambini della fattoria. Quando dalla posizione del sole vedevano che mancava un quarto a mezzogiorno, cominciavano ad avvicinarsi alla casa. Venivano da tutte le parti, spingendo innanzi le greggi per non abbandonarle sole. Le loro teste spuntavano insieme a quelle delle capre, fra i cespugli e l'erba alta, come rane che nuotano in uno stagno. Lasciate le bestie sul prato, entravano nella stanza senza far rumore, a piedi nudi. Ce n'erano di tutte le età, dai due ai dieci anni. Si comportavano benissimo, osservando una specie di cerimoniale di loro invenzione, che si riduceva a questo. Potevano andare dove volevano, ma non dovevano toccare nulla, non si dovevano mettere a sedere e non dovevano aprir bocca se non venivano interrogati. Quando il cucù si scagliava verso di loro, una grande ondata di estasi e di risate represse li percorreva. A volte qualcuno dei più piccoli, dimentico dei suoi doveri, arrivava di mattina presto, solo, soletto, contemplava a lungo l'orologio ora chiuso e silenzioso, rivolgendogli una cantilena monotona, una specie di dichiarazione d'amore in chicuiu, per poi riandarsene con aria solenne. I miei servi li prendevano in giro. Quei pastorelli erano talmente ignoranti, mi confidavano, da credere che il cucù fosse vivo. Adesso però erano loro che venivano a spiare la macchina da scrivere. A volte, la sera, Camante restava là, appoggiato al muro, per più di un'ora, e i suoi occhi sotto le sopracciglia si muovevano avanti e indietro, come delle gocce scure. Pareva volesse studiarne il meccanismo fino in fondo, per poterla smontare e rimontare completamente. Una sera, alzando gli occhi, incontrai il suo sguardo attento. «Mzabu», mi chiese dopo un istante, «credi davvero di poter scrivere un libro?». Risposi che non lo sapevo. Per capire cosa fosse una conversazione con Camante, bisogna sapere che prima di ogni frase faceva una lunghissima pausa, gravida di profonda responsabilità. Tutti gli indigeni sono maestri nell'arte della pausa, con cui creano nella discussione il senso della prospettiva. Camante fece una lunga pausa, poi disse «Io credo di no». Era il solo essere umano con cui potessi discutere del mio libro. Smesi di scrivere e gli chiesi perché. Scoprì ora che aveva meditato su quella conversazione e aveva la risposta già preparata. Tirò fuori da dietro la schiena il volume dell'Odissea e lo posò sul tavolo. «Guarda, Mbazu», disse, «questo è un buon libro. È tutto intero, dal principio alla fine. Anche se lo si alza e lo si scuote forte, non si disfa. L'uomo che l'ha scritto è molto intelligente. Ma quello che scrivi tu?» proseguì con disprezzo e allo stesso tempo con una specie di compassione amichevole. «È un po' qua e un po' là. Se ci si dimentica di chiudere la porta, vola via, magari per terra e tutti arrabbi. Non sarà un buon libro». Gli spiegai che in Europa avrebbero saputo metterlo tutto insieme. «Allora il tuo libro sarà pesante come questo?» chiese lui soppesando l'Odissea. Quando vide che esitavo, me lo porse perché potessi giudicare io stessa. «No», dissi, «non sarà pesante come questo, ma ci sono anche altri libri nella biblioteca che sono più leggeri». «Duro come questo?» chiese. Dissi che fare un libro duro come quello costava caro. Rimase un po' in silenzio. Poi per farmi capire che aveva maggiori speranze per il frutto della mia fatica e forse anche che si pentiva dei suoi dubbi, si chinò a raccattare le pagine sparse sul pavimento e le rimise sul tavolo. Ma ancora non si decideva ad andarsene. Restava lì, in attesa. Alla fine mi chiese con aria grave, «Mbasu, cosa c'è nei libri?» Per dargli un esempio, gli raccontai la storia di Ulisse e Polifemo, di come Ulisse aveva detto di chiamarsi nessuno e come, accecato Polifemo, era fuggito nascondendosi sotto la pancia di un montone. Camante ascoltava con grande interesse. «Il montone», osservò, doveva essere della stessa razza delle pecore del signor Long, di Elmentaita, che aveva visto ad una fiera del bestiame a Nairobi. Poi, tornando a Polifemo, mi chiese se fosse nero come i Kikuyu. Quando gli risposi di no, volle sapere se Ulisse era della mia famiglia o della mia tribù. «Come si diceva a nessuno nella sua lingua?» chiese. «Utis», risposi. Disse di chiamarsi «Utis», che nella sua lingua significa «nessuno». «Tu devi scrivere della stessa cosa?» «No, ognuno può scrivere quello che vuole. Io potrei scrivere anche su di te». Camante, che nel corso della conversazione si era abbandonato, a questo punto improvvisamente si chiuse in se stesso. Si guardò addosso e mi chiese a bassa voce su quale parte di lui avrei scritto. «Potrei scrivere di quando eri malato e facevi pascolare le pecore sulla pianura?» dissi. «A che cosa pensavi allora?» girò lo sguardo per la stanza, poi risposi in modo vago. «Se giui?» «Non lo so». «Avevi paura?» gli chiesi. «Sì», dichiarò con fermezza, dopo una pausa. «Tutti i bambini hanno paura a volte sulla pianura». «Di cosa avevi paura?» Camante rimase un po' in silenzio, lo sguardo concentrato e profondo come se scrutasse dentro se stesso. Poi mi guardò con una piccola smorfia. «Di Utis», disse. «I bambini hanno paura di Utis», sulla pianura. Qualche giorno dopo lo sentì spiegare agli altri ragazzi che il mio libro poteva essere messo tutto insieme in Europa e se spendevo un mucchio di soldi poteva anche diventare duro come l'Odissea, in quell'occasione esibita di nuovo. Lui però non credeva che potesse diventare azzurro. Camante aveva un talento speciale, tutto suo, che gli fu utile quando viveva alla fattoria. Poteva piangere quando voleva. Se lo rimproveravo seriamente, mi restava davanti impalato, guardandomi con la tristezza profonda, vigile, che può invadere in certi particolari momenti il viso degli indigeni. Gli occhi gli si empivano di grosse lacrime che pian piano, ad una ad una, gli colavano giù per le guance. Sapevo che erano lacrime di coccodrillo e non mi avrebbero fatto nessun effetto se non si fosse trattato di lui. Con Camante era diverso. Il suo viso piatto, di legno, si rituffava allora nel buio e nella solitudine in cui era rimasto per tanti anni. Da bambino, in mezzo al suo greggio sulla pianura, aveva forse pianto lacrime così mute e dolorose. Mi dava un senso di pena e di disagio, e la mancanza per cui l'avevo rimproverato mi pareva improvvisamente una cosa da nulla, una sciocchezza, e preferivo non parlarne più. In un certo senso era scoraggiante, ma forse, con la vera comprensione umana che ci legava, Camante sapeva in cuor suo che non mi lasciavo ingannare dalle sue lacrime di contrizione. In realtà, lui stesso le considerava più un'offerta rituale alle potenze superne che un tentativo di ingannarmi. Parlando di se stesso, ripeteva spesso di essere cristiano. Era difficile capire cosa significasse precisamente per lui. Due o tre volte cercai di catechizzarlo, ma rispondeva sempre che credeva nelle stesse cose in cui credevo io, e che era assurdo fargli delle domande, perché dovevo sapere da me le risposte. Evidentemente non rappresentava un modo di evadere, ma piuttosto il suo programma positivo, o la sua professione di fede. Aveva abbracciato il Dio dei Bianchi. Al suo servizio era pronto ad obbedire a qualsiasi comando, ma non a prendersi la briga di spiegare un sistema plausibile che poteva poi, come tutti gli altri sistemi plausibili dei Bianchi, risultare irragionevole. Se per caso, però, il mio modo d'agire gli pareva in contrasto con quanto gli avevano insegnato alla missione scozzese, voleva sapere chi aveva torto e chi ragione. In un mondo primitivo ci si aspetterebbe di trovare oscuri i tabù, e si resta sorpresi dalla mancanza di pregiudizi degli indigeni. Ma essa dipende, credo, dai contatti con tante diverse razze e tribù, e dai vitali rapporti umani creati nell'Africa orientale, prima dai trafficanti di schiavi e di avorio, e poi dai coloni e dalle spedizioni di caccia grossa. Ogni indigeno, si può dire, compreso il piccolo pastore delle pianure, si è trovato di fronte nella sua vita a tanti popoli diversi l'uno dall'altro, e da lui stesso come un siciliano da un eschimese. Ogni indigeno, si può dire, compreso il piccolo pastore delle pianure, si è trovato di fronte nella sua vita a tanti popoli diversi l'uno dall'altro e da lui stesso, come un siciliano da un eschimese, inglesi, ebrei, boeri, arabi, somali, indiani, sueli, masai e cavirondo. Per la capacità di assimilare le idee, l'indigeno è uomo del mondo più del colono, ed è il missionario cresciuto in provincia o in periferia, in un ambiente compatto e con idee ben stabilite. Molti dei malintesi fra i bianchi e gli indigeni nascono proprio da questo. Sentire che noi, con la nostra persona, rappresentiamo agli occhi degli indigeni il cristianesimo, incute un certo senso di paura. Una volta venne a lavorare da me un giovane chicuio della riserva, Kitau. Era un ragazzo riflessivo, attento, preciso in tutte le faccende, e gli volevo molto bene. Dopo tre mesi mi chiese una lettera di raccomandazione per il mio vecchio amico sceico, Ali bin Salim, in le vali della costa a Mombasa. Kitau lo aveva visto in casa mia e ora, disse, voleva andare a lavorare da lui. L'idea che se ne andasse, quando aveva appena imparato le abitudini della casa, non mi andava giù. Perché restasse, ero disposta anche ad aumentargli la paga. No, rispose, non si trattava della paga. Alla riserva, mi spiegò, aveva deciso di diventare o cristiano o maomettano. Solo non sapeva ancora bene quale dei due. Per questo era venuto a lavorare da me, una cristiana, ed era rimasto tre mesi in casa mia per vedere la testurde, gli usi e i costumi dei cristiani. Dopo sarebbe andato dallo sceico Ali, a Mombasa, a studiare la testurde dei maomettani, e alla fine avrebbe preso la sua decisione. Anche un vescovo, credo, saputo come stavano le cose, avrebbe detto, o almeno pensato, come me, santo cielo, chitau, potevi dirmelo subito. I maomettani mangiano solo carne di animali sgozzati da un maomettano, secondo la regola ortodossa. Ciò crea spesso parecchie difficoltà durante i safari, dove si portano poche provviste e in genere si vive tutti quanti di quello che si caccia. Quando si riesce a colpire un congoni, e il congoni cade, i maomettani si precipitano a sgozzarlo prima che muoia, mentre gli altri seguono ogni loro mossa con gli occhi lucidi tutti i tesi. Se rimangono lì fermi a guardare, le braccia e la testa ciondoloni, vuol dire che il congoni è morto prima che siano riusciti ad acchiapparlo, e se ne deve prendere un altro se non si vuole che i portatori muoiano di fame. Una volta, al principio della guerra, dovevo mettermi in viaggio coi carri per una spedizione. La sera prima di partire, incontrando per caso il governatore maomettano Kijabe, gli chiesi se non poteva dispensare dalla regola i miei uomini per tutta la durata del safari. Il governatore, giovane ma pieno di buonsenso, consultatosi con Farai Ismail, dichiarò i suoi correligionari. Questa signora è una discepola di Gesù Cristo. Prima di sparare dirà, almeno in cuor suo, in nome di Dio. Dopodiché i suoi proiettili saranno come il coltello del maomettano osservante. Per tutta la durata di questo viaggio, quindi, potrete mangiare senza rimorsi la carne degli animali che uccide. Il prestigio della religione cristiana in Africa era indebolito dall'intolleranza reciproca delle varie chiese. La notte di Natale, quando ero là, mi recavo sempre alla missione francese per sentire la messa di mezzanotte. In genere faceva caldo in quella stagione. Traversando i macchi nei boschi di acace, si sentiva eccheggiare nell'aria limpida il suono prolungato della campana della missione. Là intorno, una folla gaia ed animata, era in attesa. I bottegai francesi ed italiani di Nairobi erano arrivati con le loro famiglie, le monache della scuola del convento, gli indigeni della congregazione che sciamavano qua e là con i loro vestiti chiassosi. Centinaia di candele e grandi schermi di tela con delle pitture e una luce dietro, fatti dai padri stessi, illuminavano la bella e vasta chiesa. Il primo anno che Camante passò in casa mia, quando giunse Natale, gli dissi che, essendo ormai anche egli un cristiano, lo avrei condotto a messa. Con uno stile degno degli stessi padri, gli descrissi la cerimonia stupenda a cui avrebbe assistito. Emozionato, commosso nel più profondo del cuore, Camante per l'occasione indossò i suoi abiti migliori. Ma quando la macchina era già alla porta, tornò indietro, agitatissimo. Non poteva assolutamente venire, disse. Non voleva spiegarmi perché e rispondeva in modo evasivo alle mie domande. Alla fine, però, riuscì a fargli confessare la verità. No, non poteva venire. All'ultimo momento si era reso conto che lo volevo portare alla missione francese, mentre all'ospedale gli avevano detto che da quel luogo si doveva guardare. Cercai di spiegargli che era tutto un equivoco e che doveva assolutamente venire. Vedendomi così decisa, impietrì. Divenne pallido come un morto. Mostrò il bianco degli occhi, si coprì di sudore. No, no, Amzabu, mormorò, non vengo. Dentro quella grande chiesa, lo so bene, c'è un Amzabu che è in baia sana, terribilmente cattiva. Al sentir questo mi rattristai profondamente. Ora dovevo portarlo con me a tutti i costi perché la Madonna lo illuminasse. In chiesa c'era una statua della Vergine, di carta pesta, di dimensioni naturali, tutta bianca e azzurra. Le statue, di solito, fanno grande impressione agli indigeni, che invece arrivano con difficoltà a concepire l'idea di un quadro. Costrinsi Camante ad accompagnarmi, promettendogli di proteggerlo. Quando sempre attaccato pavidamente alle mie sottane, entrò in chiesa, dimenticò tutti i suoi scrupoli. Per un caso fortunato fu la più bella messa di Natale che si fosse mai svolta alla missione. C'era un presepio enorme, una grotta con la sacra famiglia, appena arrivata da Parigi, illuminata da stelle radiosi in un bel cielo azzurro e circondata da un centinaio di animali in miniatura, mucche di legno e agnelli di lana immacolata, senza nessun calcolo meschino di proporzioni, che probabilmente mandava in estasi i cuori dei Kikuyu. Da quando era diventato cristiano, Camante non aveva più paura di toccare un morto. Prima invece la sola idea lo atterriva. Una volta mi portarono a casa, in barella, un malato grave, che morì poco dopo, lì sulla mia terrazza. Camante, come gli altri Kikuyu, non volle dare una mano per riportarlo indietro. Però, invece di scappare anche lui sul prato, restò immobile, come un piccolo monumento scuro sulla terrazza. Perché mai Kikuyu temano così poco la morte e poi si spaventino tanto al pensiero di toccare un morto, mentre i bianchi hanno paura di morire, ma non di toccare un cadavere, non lo so. È questo un altro tratto per cui ci si accorge che la loro realtà è diversa dalla nostra. In quel campo l'indigeno è irremovibile e i coloni sanno benissimo che non vale la pena di perdere tempo per tentare di persuaderlo. Preferirebbe morire, piuttosto che cambiare. Ora Camante non solo si era liberato da quel terrore, ma prendeva anche in giro i suoi parenti. Si dava persino un po' di arie, quasi vantandosi del suo Dio. Potei mettere alla prova la sua fede perché mi aiutò tre volte a portare un morto nel periodo che stette alla fattoria. La prima fu una ragazza Kikuyu, investita da un carro davanti a casa mia. Il secondo, un giovane, rimasto ucciso mentre stava abbattendo gli alberi nel bosco. Il terzo, un vecchio bianco che era capitato alla fattoria, aveva diviso per qualche tempo la nostra vita ed era morto. Si trattava di un mio compatriota, un vecchio danese cieco chiamato Künzen. Un giorno, a Nairobi, avvicinatosi alla mia macchina, mi aveva chiesto se potevo dargli ospitalità nella mia terra. Non aveva un asilo dove rifugiarsi nel mondo. Alla piantagione, in quel periodo, avevo dovuto ridurre il numero dei miei dipendenti bianchi e c'era un bungalow libero che gli potevo cedere temporaneamente. Così venne da noi e visse alla fattoria sei mesi. Era un personaggio singolare, per una fattoria sugli altipiani. Talmente una creatura del mare che pareva di avere fra noi un albatros con le ali tarpate. Le avversità, le malattie, l'alcol lo avevano ridotto un rottame, tutto curvo e sbilenco, canuto come può diventarlo solo la gente dai capelli rossi, quando si imbianca. Sembrava si fosse coperto la testa di cenere o avesse ricevuto il marchio del suo proprio elemento e fosse stato messo sotto sale. Ma bruciava in lui una fiamma inestinguibile che nessuna cenere poteva nascondere. Nato da una razza di pescatori danesi, aveva fatto il marinaio per poi diventare uno dei primi pionieri dell'Africa. Chissà quale vento l'aveva portato lì? Il vecchio Künzen aveva tentato molte imprese nella sua vita, imprese che avevano a che fare con l'acqua, i pesci e gli uccelli, ma non gliene era riuscita bene nessuna. Un tempo, mi raccontò, possedeva una bellissima azienda per la pesca sul lago Vittoria, con chilometri di reti fra le migliori del mondo e una barca a motore, ma durante la guerra aveva perso tutto. Raccontando quella tragedia accennava sempre ad un equivoco fatale avvenuto in un momento tenebroso e al tradimento di un amico. Non so di che tradimento si trattasse, perché ogni volta raccontava la storia in modo un po' diverso e quando arrivava al punto famoso cadeva in preda ad una tremenda agitazione. Ma qualcosa di vero ci doveva essere, perché nel periodo che passò alla fattoria, il governo gli pagava una specie di pensione di uno scellino al giorno per risarcirlo delle perdite subite. Mi raccontava le sue avventure quando veniva a farmi visita. Spesso, non trovandosi bene nel bungalow, si rifugiava da me. I ragazzi che mandavo a fargli i servizi scappavano continuamente, perché lui li aggrediva alla cieca, con la testa protesa agitando goffamente il bastone e terrorizzandoli. Ma quando non era depresso, veniva a bere una tazza di caffè sulla mia veranda e mi cantava inni patriottici danesi, da solo e con grande ardore. Era un piacere per tutti e due parlare la lingua della nostra patria e chiacchieravamo di qualsiasi cosa, anche dei piccoli fatti insignificanti della fattoria, solo per il gusto di parlare. Ma non sempre mi mostravo paziente con lui, perché una volta che aveva cominciato era difficile farlo smettere e mandarlo via. Nell'atmosfera casalinga dei nostri incontri portava seco l'aura dell'antico marinaio o del vecchio uomo del mare. Conosceva l'arte di fare le reti, le migliori reti da pesca del mondo, diceva, e là, nel bungalow, faceva kikibos, le fruste indigene di pelle di popotamo. Le pelli le comprava dagli indigeni o dai coloni del lago Naivasha. Se aveva fortuna, riusciva a tirar fuori anche cinquanta fruste da ciascuna. Posseggo tuttora un ottimo frustino regalatomi da lui. Intorno alla sua casa, quando le preparava, si diffondeva un fettore spaventoso, simile al fettore del nido di certi vecchi corvi che si nutrono di carogne. Più tardi, quando fu costruito il laghetto, lo si trovava sempre là, immerso in profonde meditazioni, con la sua immagine riflessa verticalmente sotto di lui, come un gabbiano in uno zoo. Nel suo petto fragile e incavato, il vecchio Künzen aveva il cuore fiero, irascibile e selvaggio di un ragazzo che arde di genuino amore per la lotta. Fanfarone, grandioso, battagliero e romantico, era capace di odiare con un'intensità singolare. Sempre vibrante di indignazione e di rabbia contro quasi tutte le persone e le istituzioni con cui aveva a che fare, invocava su di loro il fuoco e la tempesta sul furia dei cieli, e dipingeva il diavolo sulla parete, come si diceva da noi in Danimarca, imitando in ciò Michelangelo, che dipinse tanti diavoli nei suoi affreschi. Era ben felice quando poteva spingere qualcuno ad attaccar briga con qualcun altro, come i bambini che si divertono a far azzuffare due cani o un cane e un gatto. Era formidabile e stupefacente che il vecchio Künzen potesse ancora, dopo una vita tanto dura e quando, per così dire, le onde l'avevano portato in una baia tranquilla, dove avrebbe potuto riposarsi con le vele abbassate, anelare in cuor suo alla lotta e alle imprese rischiose, come un berserk, uno di quegli antichi guerrieri norvegesi che combattevano con impeto furioso. Parlava sempre di se stesso, come del vecchio Künzen, in terza persona, e sempre vantandosi e gloriandosi. Non c'era una sola cosa al mondo che il vecchio Künzen non potesse intraprendere e portare a termine, e non un solo campione di lotta che il vecchio Künzen non potesse mettere fuori combattimento. Per quel che riguardava gli altri era un nero pessimista e prevedeva la prossima, catastrofica e ben meritata fine di tutti i loro loschi traffici, ma per se stesso era un furioso ottimista. Poco prima di morire mi confidò, dietro al giuramento del più assoluto segreto, un piano formidabile, che avrebbe reso il vecchio Künzen milionario, mettendo tutti i suoi nemici all'agonia. Aveva in mente, mi disse, di ripescare dal fondo del lago Naivasha le mille e mille tonnellate di guano ammassate laggiù, sin dalla creazione del mondo, dagli uccelli marini. Con un ultimo enorme sforzo fece un viaggio fino al lago Naivasha per studiare tutti i dettagli del suo piano. Morì nell'alone di quell'impresa. In quel progetto c'erano tutti gli elementi cari alla sua anima, il fondo del lago, gli uccelli, i tesori nascosti, e perfino il profumo di quelle cose di cui non si dovrebbe parlare ad una signora. In cima alla montagna di guano, con gli occhi della sua mente, vedeva se stesso, il vecchio Künzen, trionfante, padrone delle onde, armato di tridente. Non ricordo se mi abbia mai spiegato come avrebbe fatto a raccogliere il guano dal fondo del lago. Le grandi gesta e i trionfi del vecchio Künzen, che mi descriveva la sua superiorità in tutto, erano in netto contrasto con la debolezza e l'impotenza del vecchio che li raccontava. Si aveva la sensazione di avere a che fare con due persone distinte ed essenzialmente diverse. La potente figura del vecchio Künzen si ergeva sullo spondo, indomita e trionfante, eroina di tutte le avventure, mentre quello che io conoscevo era solo il suo vecchio servo, tutto curvo e stracco, che non si stancava mai di parlarmi di lui. Quell'ometto umile si era fatta una missione nella vita, vantare e glorificare il nome del vecchio Künzen fino all'ultimo respiro. Perché lui l'aveva visto, il vecchio Künzen, lui solo, oltre Dio, e non tollerava nessuna eresia, in nessuno. Una sola volta l'ho sentito parlare in prima persona. Fu un paio di mesi prima che morisse. Aveva avuto un brutto attacco di cuore, come quello che alla fine lo portò alla tomba, e non avendolo visto da una settimana alla fattoria, andai al suo bungalow per sapere come stava. Lo trovai a letto, in mezzo al tanfo delle pelli di popotamo, nella stanza nuda e in disordine. Era cinerio. Gli occhi annebbiati smorivano, semisommersi. Non mi rispose, né mi disse una sola parola quando gli parlai. Solo dopo un bel pezzo, quando già mi accingevo ad andarmene, mormorò con voce fievole e rauca. Sto molto male. In quel momento non parlava del vecchio Kyunzen, che certo non poteva essere né malato né sopraffatto. Era il vecchio servo che, una volta tanto, si permetteva di confessare la sua sofferenza e la sua pena. La vita della fattoria era scialba per il vecchio Kyunzen. A volte chiudeva a chiave il suo bungalow e se la svegnava senza dir nulla a nessuno, sparendo dal nostro orizzonte. Questo succedeva per lo più, credo, quando sapeva che qualche vecchio amico, qualche altro pioniere del passato glorioso, era arrivato a Nairobi. Stava fuori per una settimana o due, finché ci si dimenticava quasi della sua esistenza, e tornava sempre talmente stracco e malato che a mala pena poteva trascinarsi fino a casa e aprire la porta del bungalow. Dopo se ne stava rinchiuso un paio di giorni, credo che avesse paura di me. Era sicuro che avrei disapprovato le sue scappate, approfittando della sua debolezza per trionfare sopra di lui. In cuor suo il vecchio Kyunzen, benché cantasse tante volte la canzone della sposa del marinaio innamorata del mare, aveva una profonda diffidenza per la donna. La considerava nemica dell'uomo per istinto e guastafeste per principio. Il giorno che morì era stato appunto lontano dalla fattoria un paio di settimane, e nessuno si era accorto del suo ritorno. Ma quella volta, evidentemente, voleva fare uno strappo alle sue abitudini, e si era incamminato per il sentiero che portava dal bungalow a casa mia. Fu lì che cadde e morì. Io e Camante lo trovammo per terra, tardi, nel pomeriggio, mentre andavamo a cercare funghi fra l'erba nuova e bassa della pianura. Eravamo d'aprile, al principio delle grandi piogge. Fu bene che lo trovasse Camante, il solo di tutti gli indigeni che gli avesse dimostrato simpatia. Si interessava a lui, come ogni anormale si interessa ad un altro anormale. Di tanto in tanto gli portava in regalo qualche uovo, e teneva d'occhio i totos perché non lo piantassero in asso. Il vecchio giaceva sul dorso, con gli occhi semi aperti. Il cappello, nella caduta, gli era ruzzolato un po' più in là. Nella morte pareva raccolto e calmo. Ecco ti è arrivato, finalmente, vecchio Künzen, pensai. Volevo portarlo al suo bungalow, ma era inutile chiamare in aiuto qualcuno dei kikuyu che si trovavano nei paraggi o nelle shambas vicine. Alla vista del cadavere sarebbero scappati immediatamente, per non essere costretti a toccarlo. Dissi a Camante di correre a casa e di far venire farà per aiutarmi, ma Camante non si mosse. Perché vuoi che corra a casa? Chiese. Lo vedi da te? Dissi. Non posso portare da sola il vecchio Buana, e voi kikuyu siete sciocchi, avete paura di portare un morto. Camante accenò il suo solito risolino muto. Ti sei scordata un'altra volta, Zabu, disse, che sono cristiano. Sollevò il vecchio per i piedi, mentre io lo tenevo per la testa e insieme lo portamo al bungalow. Ogni tanto ci dovevamo fermare per riposarci e lo sdraiavamo per terra. Poi Camante si alzava e fissava dritto i piedi del vecchio Kunzen, con un atteggiamento che probabilmente aveva visto prendere i preti della missione scozzese davanti alla morte. Quando l'avemmo steso sul letto, Camante lo vistò in camera e in cucina per cercare un panno con cui coprirgli la faccia. Trovò solo un vecchio giornale. Così facevano i cristiani all'ospedale, mi spiegò. Molto tempo dopo, Camante provava ancora una grande soddisfazione all'idea di quella prova della mia ignoranza. Stavamo cucinando insieme e lui all'improvviso, tutto gongolante, scoppiò a ridere. «Ti ricordi, Zabu, disse, quando ti eri dimenticata che sono cristiano e credevi che avrei avuto paura a portare il Zungumzei, il vecchio uomo bianco». Da quando era cristiano, Camante non aveva più paura dei serpenti. Lo sentì dichiarare agli altri ragazzi che un cristiano, se vuole, può schiacciare sotto il suo tallone il serpente più grande del mondo. Non lo vidi mai fare l'esperimento, ma una volta lo trovai immobile, con la faccia decisa e le mani dietro la schiena, a poca distanza dalla capanna del cuoco. Dal tetto, seppi, aveva fatto capolino una vipera. Tutti i bambini facevano cerchio intorno, come fili di paglia sparsi da una ventata. Farà andò in casa a prendere il fucile e l'ammazzò. Quando tutto fu finito e la tempesta si placò, Niore, il figlio di Sice, chiese a Camante «Ma tu, Camante, perché non l'hai schiacciato col tallone il grosso serpente cattivo?» «Per chi era sul tetto», rispose lui. «Una volta vogli provare ad andare a caccia con l'arco e le frecce. Ero forte, ma duravo fatica a piegare l'arco van der Robo che mi ero fatta comprare da Farà. Alla fine, però, dopo molti esercizi, divenni bravissima. Camante, che era ancora molto piccolo, stava sempre a guardarmi quando mi esercitavo sul prato. Sembrava poco persuaso di quella novità. «Sei cristiana anche quando tiri con l'arco?» mi chiese un giorno. Pensavo che i cristiani adoperassero solo il fucile. Gli mostrai nella mia piccola Bibbia un'illustrazione della storia del figlio di Agar. E Dio era col fanciullo, ed egli crebbe e si fortificò nelle selve e divenne un arciere. «Ho capito», disse Camante. «Era come te». Camante sapeva curare uomini ed animali. Se un cane aveva una scheggia in una zampa, lui riusciva a togliergliela, con incredibile delicatezza. Una volta ne guarì uno anche dal morso di un serpente. Per qualche tempo avemmo in casa una cicogna con un'ala spezzata. Era un personaggio risoluto. Girava per tutte le stanze, e quando arrivava nella mia stanza da letto combatteva atroci duelli contro la sua stessa immagine allo specchio, sbatacchiando e rotteando le ali come spade. Seguiva Camante dappertutto, e non si poteva fare a meno di pensare che stesse deliberatamente, imitando il passo rigido e misurato di lui. Avevano le gambe magre quasi allo stesso modo. I bambinetti indigeni, sempre pronti a notare ogni minimo tratto grottesco, la prima volta che videro la coppia si misero a stripitare, esilarati. Camante capì che ridevano di lui, ma non era tipo da badare molto a quello che pensavano gli altri. Si limitò a mandare i bambini a cercare ranocchie nel pantano per il pasto della cicogna. Anche di Lulu si occupava, Camante.